Visto che siamo il 25 dicembre mi sembra giusto fare a tutti quanti gli auguri di Natale. Tenendo conto però di come è andato il canale dei pochissimi like ricevuti, purtroppo siamo alle strette e quindi la canzone di Natale non può essere quella di Mariah Carey o di qualcun altro famoso che vorrebbe i diritti e quindi ve la faccio io la canzone di Natale, e tanti auguri. Con l'auspicio che il nuovo anno porti un po' più di testicoli agli italiani in modo da reagire a questa situazione che stiamo vivendo da ormai quasi un anno. Buon Natale a tutti!